Un grandissimo esempio, lo devo dire per tutti voi. Fido già diversi anni che è nel settore giovanile del Parma, a causa da quando avevi 14 anni, 15 anni, questo è il quarto anno. Quest'anno ho raggiunto un traguardo per me incredibile, in tutti questi anni che sono qua non era mai successo, è arrivato a giocare in una partita ai mondiali del Brasile, e poi ne avrete una testimonianza nel video. Questo deve essere veramente uno stimolo per tutti, ma anche per noi allenatori.